Ci sono un migliaio di famiglie aquilane che attendono risposte dal governo regionale relativamente alle case ATER che sono andate distrutte dopo il sisma del 2009. Lei ha presentato una interrogazione in Consiglio regionale. Che cosa è successo? Sì, l'interrogazione è stata depositata sei mesi fa e l'assurdo è che in Consiglio regionale è stata calendarizzata per martedì scorso. Ho chiesto la risposta in Consiglio regionale e il Presidente non mi ha risposto perché dice che il delegato è Di Matteo ma comunque il Presidente della Regione ha tutte le deleghe racchiusi in sé quindi può e deve rispondere. Il dramma è che tanti cittadini, centinaia di cittadini sono stati allontanati a seguito dei crolli delle case popolari, si trovano in alloggi di fortuna nei moduli provvisori, vorrebbero rientrare all'interno degli alloggi ma i lavori non sono iniziati e hanno promesso stanziamenti di somme di denaro, si parlava di 50 milioni di euro, poi di 80 milioni di euro, sembrerebbe che questi soldi poi non siano stati mai effettivamente corrisposti o messi al regime e ora stanno ancora appunto rivendicando questo diritto. Non solo, lì c'è anche una beffa perché all'interno delle case popolari ci sono proprietari che avevano acquistato l'alloggio popolare che stanno ancora pagando il mutuo pur non essendo all'interno dell'alloggio. È un dramma, io chiederò con forza una risposta nel prossimo Consiglio regionale, mi auguro che l'amministrazione regionale si degni di darci almeno una risposta.